Buongiorno, ripartiamo da pagina 348. La fine dell'unità nazionale. Che cosa significa? Significa che tutti quei partiti antifascisti che avevano fatto fronte comune contro il fascismo, una volta elaborata la Costituzione, iniziano in qualche modo a litigare. La Costituzione, che viene scritta dall'Assemblea Costituente, praticamente dal giugno del 1946 al 22 dicembre del 1947, entra in vigore il 1 gennaio 1948, quindi tra pochissimo compirà 70 anni. Una volta però che la Costituzione entra in vigore, c'è una sorta di spaccatura. Spaccatura perché da un lato, lo abbiamo già visto, la democrazia cristiana, che ha forti legami con la Chiesa, non può sopportare di governare insieme al Partito Socialista di Unità Proletaria, che poi si spezzerà ancora, e il Partito Comunista, che invece erano anticattolici, marxisti, classisti, comunisti appunto. Anche dal punto di vista della politica internazionale, l'ADC era favorevole agli Stati Uniti d'America, i partiti di ispirazione comunista, si schieravano a fianco dell'Unione Sovietica. Quindi l'Italia è veramente spezzata in due. In qualche modo, un favore all'ADC lo fa il PCUP, cioè il Partito Socialista di Unità Proletaria, che si divide a sua volta, creando da un lato il Partito Socialista Italiano e dall'altro il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani. L'ADC quindi riesce, praticamente essendo un partito unico, a sconfiggere anche alle successive elezioni i tre partiti invece di sinistra di ispirazione comunista, e inizierà a governare con partiti più piccoli, dando il via al grande periodo dei governi centristi, cioè i governi di centro. La democrazia cristiana era di centro fondamentalmente. Il Partito Comunista Italiano, che dei partiti di sinistra comunisti era il più forte, comunque si batte a favore della democrazia, ma rimaneva comunque fedele alle direttive del Partito Comunista Russo e quindi alle direttive di Stalin, che dopo la Seconda Guerra Mondiale era ancora vivo. E questo sarà il maggior problema per il Partito Comunista, perché l'Italia, che era un po' nella scacchiera nel Mediterraneo, è una pedina importantissima, ed era stata liberata dagli Stati Uniti, ecco, in Italia una presenza di un partito comunista forte non era bene accetta. Che cosa succede quindi? Succede che l'Italia, liberata dagli alleati e in particolare dagli Stati Uniti, non resta che allearsi e si allea in due maniere, in qualche modo, questa alleanza ha due conseguenze. Da un lato l'Italia entra nella Nato, l'alleanza militare statunitense e dall'altro accetta i fondi del piano Marshall che serviranno a ricostruire comunque tutta l'Italia. Come già vi avevo accennato, il primo gennaio 1948 parte una nuova campagna elettorale per votare i partiti con la nuova Costituzione. Vi ricordo che la Costituzione aveva definito la nascita di due Camere, la Camera dei Deputati e il Senato. E quindi andavano eletti i parlamentari da Camera dei Deputati e del Senato che ancora oggi costituiscono la base democratica italiana. Campagna elettorale sarà durissima, contrapposizione come sempre fra l'ADC e tutti i partiti di sinistra, soprattutto il Partito Comunista e il Partito Socialista Italiano. Ancora una volta vincerà l'ADC che confermerà quindi la serie di governi di centro. Volevo solo farvi notare una cosa, poi la ripeteremo. A destra non c'era nessuno, perché? Perché a destra in Italia era stato il partito fascista e quindi in qualche modo per un po' di tempo nessuno oserà schierarsi a destra. Anche se alla fine della Seconda Guerra Mondiale nascerà comunque il Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale che in realtà era già nato abbastanza presto, cioè nel 1946 e pian piano si dimostrerà come un compartito attivo. Quindi la vera destra era costituita dall'AMSI Fiamma Tricolore che erano in qualche modo gli eredi del partito fascista. E per ora è tutto, arrivederci.